Innanzitutto parliamo di eolico offshore, non parliamo di un'opportunità ma parliamo di una certezza. Il canale di Sicilia è il punto probabilmente al mondo nel quale questa tecnologia avrà la massima resa e la Sicilia è una piattaforma naturale. Non parliamo di un'opportunità ma di una necessità perché come si vede al parterre di oggi l'intero industria internazionale dell'offshore è qui, quindi dimostra che Palermo è attrattiva.